C'è lo sforzo del governo ed è positivo, noi come letti all'estero di Italia Viva stiamo spronando il governo già da settimane affinché l'emissione del Green Pass possa avvenire nel modo più sbrigativo, con meno burocrazia possibile. Al momento ci sono ancora una serie di problematiche, per esempio chi è stato vaccinato in Italia, pur essendo aire, non riesce ancora a scaricare il Green Pass, però la questione è attenzionata dal governo proprio perché l'abbiamo segnalata con grande insistenza, perché è necessario che si predisponga invece la possibilità di usufruire di questo strumento proprio per chi viaggia, proprio per chi si muove anche a livello Europa, perché come dicevo è proprio uno strumento di libertà, uno strumento che dà la possibilità a chi si è vaccinato, a chi è guarito oppure a chi ha fatto il tampone nelle ultime 24 ore di potersi muovere liberamente sia a livello internazionale e anche all'interno del Paese. Grazie.